Nel primo pomeriggio di Canale 5, oggi alle 13.45, andrà in onda il film drammatico, La mia buona stella, una produzione francese del 2012 cui titolo originale è, Mabon Etual Sotto la direzione di Anfassio c'è un cast di livello che vede come protagonisti Christopher Lambert, Fleur Lisewe, Claude Brasser, Antoine Berry, Nicola Robin e Samuel Le Bard Il film è stato realizzato avvalendosi della sceneggiatura di Regis Anders e di Jean Falcullet, del montaggio di Marion Monestiere e delle musiche di Sébastien Soussoua La figura di Christopher Lambert è sicuramente quella di maggior impatto all'interno del cast, come non ricordare infatti le sue memorabili interpretazioni nei diversi episodi della saga di Highlander E quelle in film di diverso genere che hanno reso unica la sua lunga carriera di attore cinematografico e Di serie tv, è lei mia buona stella, è lei trama del film La protagonista principale del film è la giovane Louise Fleur Lisewe, che vive in modo felice e spensierato gli anni dell'adolescenza nella sua casa in Normandia, dove la sua famiglia dispone anche di una scuderia Ma gli imprevisti della vita e del destino sono dietro l'angolo e un giorno la sua vita cambia radicalmente E così si ritrova a vivere all'interno della fattoria della sua famiglia, alla Ferronière, insieme al padre Pierre, interpretato egregiamente da Christopher Lambert e all'amico di famiglia Robert Claude Brasser Il padre cerca di far quadrare tra mille difficoltà il bilancio familiare e di continuare a portare avanti l'attività di famiglia, ma purtroppo gli affari continuano ad andare male e ben presto di trovano sull'orlo della bancarotta L'unica possibilità che hanno di risollevare le sorti della famiglia sono concentrate in Marchese, una giovane cavalla della quale la stessa Louise si è occupata della sua crescita L'unica possibilità di ripresa è questa e Louise Marchese proveranno a sfidare la sorte e cercheranno di risollevare gli affari e le sorti della famiglia Il trailer del film parentesi aperta in lingua originale, diritti d'autore e riproduzione riservata les block ads, why?